La nautica ha vissuto un momento eccezionale, direi da due anni a questa parte se non di più, legato a questo momento del Covid e del lockdown. Contrariamente alle nostre più nere previsioni, è stato invece un momento in cui l'oggetto nautico è stato ampiamente riscoperto su tutti i mercati e un po' in tutte le metrature, perché la barca è un bene che ti consente di vivere in libertà e con chi vuoi in un momento in cui invece avevamo restrizione alla libertà e alla frequentazione di persone. È ancora presto per tirare un bilancio di quelle che sono le conseguenze di questa terribile guerra. C'è un impatto più immediato che può riguardare le commesse attualmente in corso con il mercato russo. mercato russo che vale più o meno in generale per la nautica grande, circa il 10% dei fatturati. Per quello che ci riguarda, per il momento noi non abbiamo clienti sanzionati, quindi non abbiamo commesse che si sono bloccate. Certamente la preoccupazione per il futuro è un po' legata, per noi come per tutta l'economia, a un po' l'andamento di quello che saranno le borse, l'inflazione, l'andamento del prezzo delle materie prima e dell'energia. Quindi direi un tema che trascende il discorso specifico del cliente russo e che è un po' più ampio, che però oggi faccio fatica a prevedere in quali termini e con quale violenza si manifesterà. Il turismo nautico è una delle grandi opportunità, a mio avviso, per il nostro paese. Io me ne occupo sia come cantiere, ma anche con il mio cappello associativo, come vicepresidente di Alta Gamma è una battaglia che sto cercando di condurre, perché con le nostre coste, con la bellezza del nostro paese e con il fatto che l'Italia è il primo produttore al mondo di mega yacht, lo ricordo, è un peccato quindi produrre tante barche che arrivano dal nostro paese e che se ne vanno tutte altrove, anche perché la presenza di una barca sul territorio ha un fattore moltiplicatore molto alto, più alto persino degli alberghi 5 Stelle, perché la capacità di spesa di un armatore del suo equipaggio è la più alta possibile. Quindi noi dovremmo assolutamente investire su infrastrutture, su legislazione, perché una bandiera italiana buona non esiste, e proprio su un sistema paese che aiuti a proporre un pacchetto che sia attrattivo. Faccio un esempio, la Sardegna oggi ha assolutamente perso molto nella sua lunghezza di stagionalità, se prima era l'estate, poi è diventato il solo mese di agosto e forse anche meno, ha scapito invece delle Baleari dove invece l'attrattività del turismo nautico è molto cresciuta, con una stagione molto ampia, con un'offerta che passa dal divertimento all'aspetto paesaggistico all'offerta culturale, uguale la Grecia, uguale il Montenegro. Quindi dobbiamo stare attenti invece a non perdere questa opportunità che mi sembra che stia invece andando nella direzione opposta a quella che dovrebbe essere. Il cliente della Nautica ha cambiato un po' le sue esigenze, e forse, mi permetto di dire, il nostro gruppo è stato un po' anticipatore di alcuni trend, ha creato un po' un bisogno che forse prima non c'era e che tradurrei in due grandi filoni. Uno, il lusso che diventa meno ostentazione e più eleganza, quindi io questo lo vedo un fatto positivo. Oggi la qualità costruttiva, il dettaglio è l'elemento con cui si trasferisce ricchezza, più che non una grande abbondanza di materiali costosi. E questo è avvenuto attraverso ricerche, scouting di professionisti che provengono fuori del tradizionale settore nautico e quindi hanno portato una ventata di aria nuova. Secondo grande trend è quello di collegare sempre di più l'interno con l'esterno, di aprire la vista al mondo naturalistico che circonda la barca e che poi è la ragione vera per cui uno sceglie di andare in barca. Si parla molto di sostenibilità in tutti i settori, per fortuna anche nella nautica, come in tutti i settori ci sono delle promesse più vere, altre diciamo più futuristiche. L'approccio del nostro gruppo è di guardare a soluzioni che siano immediatamente perseguibili, così come perseguire percorsi di ricerca che guardino al futuro. La sintesi di questa doppia visione del short term e long term la riassumerei in tre puntate. L'oggi è fatto di risparmio di consumi che arrivano fino al 30% grazie ai nostri investimenti in due aspetti principali, le forme di carena e l'alleggerimento dello yacht. C'è poi una puntata che è il medio termine, che così come per l'auto è diesel elettrici e ibridi. Noi siamo stati prionieri in questo settore già da una ventina d'anni, oggi entriamo in questo settore non solo più con prototipi o con dei progetti one-off, ma con barche che hanno una diffusione numerica superiore. Quindi diventa non solo un ambito di ricerca, ma anche un ambito di mercato. Forse questa non sarà la soluzione finale, però la soluzione finale, così come per le auto, probabilmente risiederà in soluzioni che vedono cambiare i combustibili. Si parla molto di idrogeno, di metano, di ammoniaca. Sono certamente dei filoni interessanti che stiamo monitorando. Per parlare però di propulsione, quindi per spingere una barca, i tempi sono ancora molto acerbi. Quindi credo che parliamo di una decina d'anni come orizzonte temporale per arrivare lì. Ci sono delle sperimentazioni più piccole, ma che portano alla creazione di piccolissimo beneficio energetico, e quindi oggi molto marginali rispetto a quello che è il vero obiettivo, portare avanti con la propulsione, far muovere una barca nel mare. La nostra azienda è un'azienda privata. Le tentazioni della borsa, di possibili investitori, eccetera, soprattutto in questo momento, sono molteplici. Abbiamo sempre escluso tradizionalmente delle aperture al capitale. Le aperture al capitale hanno senso se consentono di fare qualcosa in più. Quindi non certamente per uscire, ma per cogliere nuove opportunità. Del futuro non si può mai dire, ma comunque rimane il principio che deve essere un mezzo, non un fine, l'eventuale apertura del capitale. In questo momento la nautica è in grande boom. Noi abbiamo ampliato al massimo la nostra capacità produttiva con i nostri cantieri. Abbiamo anche usato la tecnologia e stiamo facendo degli investimenti importanti per ampliare anche la nostra capacità produttiva. In questa direzione vanno i nostri investimenti. Non crediamo invece nelle necessità di acquisizioni. Un po' la filosofia della maison e della famiglia è sempre stata quella della crescita interna. Quindi sia Azimut che Benetti hanno aumentato le loro collezioni di prodotto, ma difficilmente hanno comprato marchi esterni. Quindi abbiamo in canna, diciamo nel cassetto, a breve, l'ampliamento della nostra collezione di prodotto, l'ampliamento quindi conseguenziale della capacità produttiva, ma sempre sotto il cappello dei nostri marchi.